in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Ben ritrovati a tutti voi, cari amici, cari amiche di Angoli, grazie per essere con me anche questa sera. Naturalmente vi ricordo subito la nostra mail, continuate sempre a scrivere ad angoli-espansionetv.it. Iniziamo questa serata con un ospite che davvero ci racconta qualche cosa di straordinario. E allora io saluto e ringrazio per essere qui con me Marco Meroni. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao, grazie a tutti. Allora, so che sei un po' emozionato, però guarda, dobbiamo raccontare delle cose molto belle. Innanzitutto tu sei papà, questa è la tua qualifica più importante di Ale e di Gaia, perché poi partiamo proprio da lì nel racconto di questa storia davvero piena, piena di contenuti. E proprio per questa ragione sei anche ideatore del volo di Ale, della casa di Ale e di un calendario dell'Avvento che abbiamo qui vicino. Poi ne parliamo e lo mostriamo agli amici a casa. Tutto questo ha un significato importante. Quale? Sì, assolutamente. Io sono un papà, un papà speciale, ma come tanti altri papà, perché ho due bambini splendidi, di cui uno, Alessandro, che è il più grande, che purtroppo nel 2016, a soli quattro anni, è stato colpito da un virus che l'ha reso tetraplegico e per respirare utilizza un ventilatore. Da lì, ovviamente, la nostra vita, che era fino allora abbastanza normale, direi banale, si è trasformata, ovviamente, si è trasformata, ma noi siamo una famiglia, come dico sempre, che lotta, pragmatica, che vuole trovare le soluzioni e non i problemi e quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo affrontato questa grande sfida che il destino ci ha messo davanti al cammino. E tra le tante cose che voi quotidianamente affrontate, c'è, come tu hai detto bene, questa parte di pragmatismo che vi ha portato anche ad immaginare delle soluzioni perché, appunto, il protagonista di questa storia possa comunque avere i suoi spazi, avere i suoi tempi, avere i suoi modi. È così? È così, hai proprio ragione. Proprio per questo noi il pragmatismo l'abbiamo trasformato in qualcosa di vero e tangibile. Un bambino tetraplegico ha delle necessità molto importanti e complesse. Case che vadano bene per le sue esigenze, soprattutto future, perché qui parliamo di un bambino oggi che ha nove anni, però questa tetraplegia se la porterà avanti nella vita e quindi ci vogliono degli spazi che siano dedicati a lui. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una casa speciale che andasse bene per le sue esigenze, appunto, speciali. Come vi siete impegnati moltissimo. Vediamo già qui, la regia ci aiuta con un'immagine di quello che è il progetto. Ma questo progetto è arrivato anche in regione, è vero? Sì, sì, sì. Ci racconti che cosa è accaduto? Sì, fortunatamente le istituzioni sia locali, noi abitiamo nel comune di Villa Guardia, sia regionali, hanno visto nel nostro progetto un'opportunità per trasformare quello che è un progetto interamente privato in qualcosa che possa diventare utile anche per altri. Fondamentalmente creare una concept house in cui tecnologia e nuove soluzioni architettoniche possano diventare un punto di riferimento per altri che, come noi, vivono con delle esigenze particolari. E quindi da lì c'è stato l'interesse di regione in cui siamo andati a fare, appunto, a Milano questa presentazione ufficiale alla stampa in cui abbiamo raccontato effettivamente il punto di partenza di questo progetto. Stiamo vedendo le immagini proprio ora. Vediamo anche Alessandro Fermi, lo riconosciamo molto bene, è stato ospite pochi giorni fa proprio qui ad Angoli. E quindi tu dici c'è stato comunque un impatto positivo, è stato colto con il giusto significato o il senso di questo progetto? Sì, dalle istituzioni ma anche da tutti i partner che si sono avvicinati. Parlo di tante aziende che hanno deciso di supportarci e di investire con noi in questo progetto in modo tale che effettivamente possa diventare un hub in cui le soluzioni vengono anche testate di volta in volta. Quindi non è soltanto un'occasione, come tu dici bene, per comunque facilitare la quotidianità di tuo figlio, ma è anche una sorta di sperimentazione che possa nel tempo migliorare, credo, anche con degli aggiustamenti in corso ad opera, perché anche tante altre persone possano avere vantaggio e trarre comunque dell'ispirazione su questa soluzione che di sicuro rende più facile la vita alle persone come tuo figlio, è così? L'idea è proprio questa, è proprio questa perché io mi sono trovato nella situazione di dover trovare, di cercare le soluzioni e di doverle trovare non solo qui ma anche all'estero, quindi andando a cercare in internet perché adesso col covid non ci si può neanche muovere, però fondamentalmente sono andato ovunque a cercare soluzioni, idee, qualcosa di nuovo, un quid in più per far sì che si potesse testare effettivamente qualcosa di nuovo e così facendo mi sono accorto, ho detto cavoli è complesso andare alla ricerca, io magari ho i mezzi per poterlo fare, ma chi non ce li ha come può fare? E allora ho detto no, tutto questo know-how, tutta questa conoscenza che stiamo acquisendo dobbiamo condividerla con altri, è fondamentale questa cosa perché non diventi solo una cosa che fa, che sia di utilizzo a noi ma anche a tanti altri. E quindi questo è sicuramente un progetto molto bello e come sottolinei di condivisione e questo tuo spirito di generosità ma anche di crescita umana, io voglio sottolineare, tu l'hai messo anche in un altro progetto molto simpatico, guardate l'abbiamo proprio qui vicino a me, ecco io vi aiuto anche con la telecamera, guardate questo è un bellissimo calendario dell'avvento, vediamo ecco, vedete ci sono tutte le finestrelle quindi giorno dopo giorno avrete una piccola sorpresa che naturalmente era chiusa all'interno e questa sorpresa io prendo un giorno a caso, eccolo qua, lo vedete quindi quando arriverete a questa data del mese di dicembre, qui dentro troverete questa cartolina che dietro ha un QR code e all'interno c'è anche qualche cosa di più, posso aprirla? Sì sì, assolutamente, vai. Vediamo, ecco qua, guardate che meraviglia, vediamo se la telecamera lo regala anche agli amici a casa, ecco qua. Allora raccontaci tutto. È un bel progetto particolare, nasce tutto dal fatto che ero stufo di i soliti calendari i soliti calendari dell'avvento, è certo. Più di altro mi sono accorto che negli anni poi i bambini tendono a diventare a sue fatti a tutti questi regali, questi dolci che ricevano, ai cioccolatini e tutto quanto. E allora ho voluto creare un qualcosa, già l'anno scorso ho fatto un test con i miei figli ed è andata bene perché gli è piaciuta questa idea, fondamentalmente il concetto è un elfo, l'elfo Ben che è il nostro amico che è stato realizzato sia nella grafica, nella produzione e tutto quanto dall'agenzia di comunicazione Slogan, che ringrazio, che praticamente è un elfo particolare perché ogni giorno chiede ai bambini di fare un compito, un compito che gli ha assegnato Babbo Natale. E quindi non si possono tirare indietro, assolutamente devono fare quello che Babbo Natale ha chiesto. E quindi vediamo qua dentro nel 14 di dicembre per esempio che cosa c'era scritto, intanto tu racconta che cosa succede. Sì, allora praticamente l'elfo Ben ha questi compiti ai bambini, i compiti sono dei lavoretti che devono fare per riscoprire i veri valori del Natale, che fondamentalmente sono i veri valori della vita. L'inclusione, l'amicizia, l'amore, dire grazie, chiedere scusa, sono tutte parti della nostra vita che i bambini stanno perdendo perché noi adulti non siamo in grado di insegnargli più, di educarli più. E allora abbiamo chiesto a Elfo Ben di aiutarci nell'educazione dei nostri figli. Questo è praticamente un percorso fatto insieme a una psicologa, Alessia D'Agostino, che porta dal primo al 24 dicembre a riscoprire tutta una serie di cose con i bambini. Non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Perché? Perché i compiti sono per bambini, quindi non c'è da aver paura assolutamente, si possono fare tranquillamente. Ora ve ne do subito anche per i genitori. Allora io nel cartoncino del 14 di dicembre, per esempio, lo sapevi che ho un'orecchia elfica più lunga dell'altra. Ecco, guardate qui c'è anche l'immagine. Allora dopo tutta la storiella che naturalmente vi leggerete a casa tutti quanti insieme, perché questo calendario dell'avvento bisogna assolutamente averlo, allora arriverete al famoso compito. Allora ti affido una missione specialissima, ovvero indaga sul perché a volte le persone stanno lontane da chi è diverso da loro. Hanno paura? Si sentono migliori? Oppure si sentono peggiori. Quindi è proprio vero, qui dentro c'è uno spunto di sorriso, un momento di condivisione, ma anche una riflessione importante che a più piccoli serve per crescere. Quindi lo abbiamo dimostrato concretamente. Ma io voglio anche ricordare che in questa bellissima idea natalizia poi ci sono anche delle altre collaborazioni, ci sono delle altre sfaccettature perché vicino a te ci sono Cuori Eroi per Bambini, Eroi è vero? E anche Argento Vivo, attenzione Fabio Algarotti che saluto perché tra qualche giorno sarà poi anche qui anche lui per raccontare la sua parte di collaborazione con questo. Sì, perché un elfo sarà l'elfo Ben nel video perché abbiamo realizzato appunto questi QR code. Ecco, questo che cosa serve? È un QR code che rimanda tutti i giorni a un video, a un video, a una piccola clip di un minuto, un minuto e mezzo, in cui appunto Argento Vivo e soprattutto Fabio racconta un po' la storia della giornata, del giorno, quindi la letterina in maniera simpatica, divertente con uno strumento che è quello multimediale del video. Quindi davvero una bellissima idea, naturalmente anche questo strumento aiuterà a raccogliere fondi, quindi è importante, ricordiamolo. Sì, assolutamente sì. L'abbiamo collegato di striscio, diciamo, al progetto della casa perché è un progetto ideato da me. Avevo la necessità di realizzare questo perché fondamentalmente più bambini avranno, crederanno nei valori, nei veri valori della vita e più mio figlio potrà ambire a un'inclusione, avrà più difficoltà degli altri a essere incluso nella società futura. I bambini di oggi sono la società futura di domani, pertanto se io riesco a educare loro, mio figlio avrà più opportunità di partecipare alla società del futuro. Posso dirti una cosa? Sei molto convincente e questo è meraviglioso. Io saluto e ringrazio Marco Meroni intanto per questo sorriso, questa luce che hai negli occhi che ci fa capire che credi profondamente in quello che fai, non solo per tuo figlio ma proprio come dici tu per la società che verrà, che parte proprio dai bambini di oggi. Quindi io direi che avere a casa questo calendario dell'avvento non sarà soltanto un'alternativa natalizia ma un inizio di un percorso educativo importante, va bene? Grazie mille. Io rimango qua, se ci sono altre cose torni a raccontarle. Va bene, sarà fatto, grazie mille. Grazie, grazie anche a voi e naturalmente con questo vi invito a rimanere perché tra poco continuiamo. Grazie a tutti.